Io ho già aderito all'iniziativa di Slow Food, un futuro per Amatrice, devolendo una parte della vendita delle amatriciane. Questa sera abbiamo fatto ampliata in piazza per coinvolgere più persone, per dare un piccolo contributo, veramente piccolo, simbolico, però sempre importante. Non mi aspettavo questa partecipazione, veramente tante persone, e l'abbiamo organizzato in fretta e in furia con una settimana, devo dire che proprio la risposta è stata grande, grande, grande dei cittadini di Loreto. Le ringrazio pubblicamente. Le ringrazio i cittadini che hanno partecipato numerosi all'iniziativa promossa dal Convivio Girasole, dall'Associazione Barabba Sound e dal Collettivo Studentesco, per la raccolta di fondi per aiutare i paesi terremotati del centro Italia, perché purtroppo è un terremoto che ha interessato quattro regioni. iniziativa notevole, è fatto consumando un piatto tipico di Loreto.